Gentili telespettatori, buona giornata. La Ferragni ha quasi 30 milioni di seguitori e voi vi chiederete come ragionano la maggior parte delle persone. Sapete che si è presentata con una specie di pigiama ha fatto sto video vestita con sto pigiama, i capelli raccolti, poco trucco e la faccia così. Ecco, un fare dismesso perché doveva chiedere scusa e doveva sembrare una povera tapina, no? Con sto pigiamone grigio, colore un po' triste con lo sfondo dietro grigio, quindi grigio su grigio colori, pochissimi colori quindi una rappresentazione triste per far vedere il suo rammarico che lei, poverina, aveva fatto tutto in buona fede Lei sapeva benissimo che la beneficenza era stata fatta mesi prima dall'azienda e lei, poverina, in buona fede, diceva compratevi sto pandoro che facciamo insieme la beneficenza Assoluta buona fede, no? Ecco, vabbè Insomma Quindi ha fatto il suo video facendo capire che che lei, poverina, in buona fede ha fatto una cosa e tutti gli vanno contro ma lei è lì addirittura per chiedere scusa di una cosa che non ha fatto o perlomeno non si è resa conto perché era in buona fede quindi lei chiede scuse da pure un milioncino per l'ospedale Eh, caspiterina Eh? Ma quel pigiamone che io ho detto quelle robe lì sono quelle cose che metti in casa che magari le utilizzi per pulire i vetri dopo una settimana che hai comprato al mercato a 4,50 euro che non sai neanche se era nuova quella roba o era usata sui banchi del mercato invece quella roba triste che aveva addosso se la guardate bene io adesso ho una foto ingrandita si vede che è un particolare tessuto non è proprio un pigiamone comprato al mercato il mercoledì mattina alle 11 non è propriamente una porcheria dice magari è andata giù al mercato dice compro sta roba qua la metto su perché devo farla poverina in un video eh no quella tuta si tratta di un jump suite da la modica cifra di 600 euro che l'imprenditrice digitale aveva già indossato in montagna inizio dicembre ma era passato assolutamente inosservato dai seguitori è una tuta in lana e angora con due tasche sul petto lana e angora si vede che c'è tutto una piccola peluria che vi fa capire che è un vello di prestigio quello è una specie di pigiamone tutona una roba inguardabile che costa 600 euro io credo di non aver mai comprato nulla da 600 euro forse una volta un giubbotto di pelle forse un vestito come questo una volta ho speso una cifra così ma non li spenderei mai per un pigiamone che sembra quello del mercato del mercoledì ecco così in quello stile dimesso dismesso più che altro sottotono quel capo grigio triste che indossava la Ferragni non è un maglione come in molti pensavano ma è una tuta in lana e angora con due tasche sul petto e non è propriamente un capo alla portata di tutti si tratta infatti di una tuta che costa 600 euro del brand l'aneus attenzione attenzione cos'è successo con quel pigiamone inguardabile il capo è andato tutto esaurito sold out sul sito del marchio generando così l'effetto Ferragni su ogni cosa che lei indossa nel bene o nel male in primis naturalmente il colore più venduto è stato il grigio come quello che indossava la Ferragni ma è andato venduto anche il bianco dice beh se non c'è il grigio me gombro il bianco ecco ma quando l'aveva indossato in montagna era stato assolutamente inosservato infatti si vede in una foto dove lei c'ha su un pelliccione e sotto a questo questa tutona che è una tutona mi scuserà l'azienda ma che non auguro di indossare a nessuno perché è una roba è una roba inguardabile adesso sto guardando qua che sull'articolo ci sono ste foto e si vede lei con degli scarponi e sto pigiamone sta specie di tuta inguardabile che nessuno si era calcolato però probabilmente se lei la indossava vuol dire che l'azienda stava pagando per quella pubblicità non credo che se la indossasse così a caso un influencer che macina montagne di soldi per le pubblicità non indossa un capo senza che ti paghino eh se no si fa vedere solo la faccia piuttosto ecco quindi ci sono quel capo è andato tutto esaurito cioè c'è gente che è corsa l'acquista del pigiamone inguardabile a 600 euro quindi non è che l'hanno comprato delle persone normali nel senso economicamente normali diceva era una roba da 15 euro tutti volevano il pigiamone della Ferragni per farsi il video o per stare a casa vestiti come la Ferragni è una roba da 600 euro tutto esaurito cioè l'azienda ha esaurito le scorte di un abito da 600 euro quindi vuol dire che c'è un certo numero consistente di gente con i soldi che è corsa subito sul sito a comprarsi il pigiamone da 600 euro insomma io vi dico che mi scuserà l'azienda ma quel capo lì non è di buon gusto cioè fa parte di tante di quelle cose che vendono aziende di prestigio che io non metterei mai l'altro giorno qualche mese fa ho visto in aeroporto in aeroporto quasi gli scoppio a ridere in faccia ho visto arrivare uno vestito con una tuta Louis Vuitton aveva scritto da qua fino alle scarpe tutto Louis Vuitton era una roba che da vedere era ridicolo sembrava una borsa che camminava ma lui era tutto che si guardava come dire avete visto quella tuta lì se era vera non lo so ma secondo me sì sarà costata una fortuna quella tuta Louis Vuitton ma io non la metterei neanche sotto minaccia di un bazooka mi vergognerei come una biscia ad uscire con una tuta avete presente la borsa ecco immaginatevi tutto vestito come una borsa era una roba dove lui mostrava il potere economico e io quasi gli scoppio a ridere in faccia ecco quindi spesso e volentieri le case di alta moda fanno delle cose che io non metterei neanche sotto minaccia di un incrociatore che mi vuole sparare contro perché mi vergognerei come una biscia come una biscia quindi ci sono capi di lusso in un certo modo e ci sono capi di lusso che a indossarli ti devi vergognare come una biscia ecco grazie a tutti e arrivederci a presto